Si avvia le battute finali questo secondo giudizio d'appello sul caso di Massimo Casanuovo, il giovane di Buonabitacolo deceduto nel 2011 dopo una caduta dallo scooter nei pressi di un posto di blocco dei Carabinieri. Nella giornata di lunedì il procuratore generale della Corte d'Appello di Salerno ha chiesto l'assoluzione del maresciallo Giovanni Cunzolo, unico indagato nella vicenda. La posizione sarebbe stata assunta alla luce delle risultanze della nuova aperizia tecnica commissionata dalla Corte lo scorso febbraio sul ciclomotore da cui Casanuovo era caduto e sulla scarpa del maresciallo. Dalle analisi non sarebbe emersa la presenza di materiale dello stivale sulla gomma dello scooter, un risultato che, secondo la procura generale, non darebbe sostanza all'accusa che il maresciallo possa aver indotto Casanuovo alla caduta calciando il ciclomotore. Ora, il prossimo 29 aprile, prenderanno la parola per le conclusioni le parti civili e il 6 maggio toccherà la difesa del maresciallo prima che venga pronunciata la sentenza. Il maresciallo Cunzolo era stato assolto in primo grado e poi condannato per omicidio preterintenzionale in secondo grado. La Cassazione tuttavia aveva accolto le eccezioni sollevate dalla difesa del militare e annullato la sentenza di condanna portando ad un nuovo processo d'appello, questo che ora sta per concludersi e che ha visto ieri la procura generale chiedere al magistrato l'assoluzione del maresciallo. Grazie. Grazie.